Non solo Cristiano Ronaldo, l'alpunta una stella argentina. I sauditi dell'Alnassr hanno ufficializzato l'acquisto dello svincolato Cristiano Ronaldo dopo la fine della sua esperienza al Manchester United. CR7, dopo un mondiale deludente, abbraccia la sfida araba ricoprendosi d'oro. Diventando anche lo sportivo più pagato al mondo con ben 200 milioni di euro a stagione. L'Alnassr però potrebbe non aver terminato qua e avrebbe intenzione di costruire un attacco stellare andando ad ingaggiare un altro grande attaccante. L'Alnassr punta Icardi Cristiano Ronaldo evidentemente non basta al club dell'Arabia Saudita. Che punta ad aggiungere al suo roster anche Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter e ora al Galatasaray. Maurito ha avuto anni complicati dentro e fuori dal campo dopo la fine della sua avventura nerazzurra. Costantemente sulle copertine dei giornali per via dei suoi guai sentimentali con Vandanara è mai più incisivo sottoporta come i tempi meneghini. Sembra che ci siano già contatti in corso tra elle a proprietà saudita Icardi. Con anche gli argentini del New York Old Boys sulle sue tracce. Ovviamente, il club saudita potrebbe offrire condizioni economiche molto più vantaggiose rispetto a quelle sudamericane. Virgola.